Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAGLE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi tante tantissime novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite anche nel video di oggi. Proprio nelle ultime ore sono successe delle cose veramente incredibili a partire ragazzi da tutti i teaser che sono stati scoperti nelle ultime ore. Un pochettino in giro per il mondo a passare da quanto è successo nei social dedicati a Fortnite, nelle pagine ufficiali per la precisione, fino ad arrivare ad alcuni file audio veramente interessanti. Nel video di oggi ragazzi parleremo innanzitutto dei tutti i teaser, quindi approfondiremo tutte le immagini che ci sono arrivate dalle parti del mondo, dal Brasile, dal Giappone, dalla Cina, ma parleremo anche di quello che è finalmente il primo ed unico evento della Season 1, l'evento oro che ufficialmente nelle prime ore del tardo pomeriggio di ieri è iniziato. Ho fatto un piccolo video sul canale, molto molto breve, oggi rivedremo alcuni passaggi perché è veramente interessante ed ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live sulla piattaforma Viola dalle 8 alle 18. Grazie mille ragazzi per il vostro supporto, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi ai canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere il video delle 13 e 30. Prima comunque non posso che farvi la domandina ragazzi, sapete che ci tengo tantissimo a sapere le vostre opinioni qua sotto nei commenti, domanda di oggi veramente super super facile, ma sei in hype per la Season 2 oppure no? Dai raga, con i teaser delle ultime 24 ore non ditemi che un po' di voglia a voi che avevate quasi abbandonato Fortnite vi è tornata, io sono convinto di sì ragazzi, si sta scoprendo qualche cosa, l'evento appunto è iniziato, i propositi sono buoni, dimmi cosa ti aspetti da questa Season e se sei un pochettino in hype qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande, i bando alle cianci, andiamo subito subito a vedere il primo argomento di oggi che sono i teaser che ci arrivano da tutte le parti del mondo, non altro che le immagini dove nei cartelloni pubblicitari è apparso il primo promo della Season 2 di Fortnite, qua siamo ovviamente nella città di High Struggle che fa vedere là sopra il cartellone pubblicitario, mentre qua ci spostiamo direttamente in Cina o in Giappone sopra quel negozio di calzature, c'è un mega schermo che fa vedere ancora un piccolo trailer di Fortnite questa invece è l'immagine da dove è partito tutto, siamo nelle vicinanze della metropolitana del Brasile dove appunto nelle prime ore per noi di ieri mattina è stato pubblicato per la prima volta al mondo quel piccolo teaser con tanto di numero di telefono, sì ragazzi perché c'era un numero di telefono che è esattamente 1, aperta parentesi, 213-262-0993 che forse non tutti hanno ascoltato era un numero vero e telefonando guardate che cosa si sentiva molto molto interessante, che cosa abbiamo appena ascoltato ragazzi? praticamente abbiamo ascoltato una voce che potrebbe essere quella di una segretaria che chiama un agente speciale chiedendo agente è pronto ad intervenire e dall'altra parte si sente un miagolio potrebbe essere quello che abbiamo già scoperto nella patch 11.40 dove c'erano delle stringhe di codice relative all'agente muscless penso che si pronunci così, meov praticamente è il verso del gatto, il miagolio e scless è una parte che associata alla parola meo diventa fuori gatto pompato in poche parole se dovessimo dirlo in Italia i più attenti di voi, ma secondo me non se lo ricorda nessuno si ricorderanno che in realtà forse abbiamo già visto qualche season precedente il gatto pompato, non vi ricordate dove? ve lo faccio vedere io ragazzi si tratta proprio del disegno che c'è nella schermata di caricamento dove è presente Links nella sua prima fase e siamo in season 7 vi ricordate qua eravamo a rampe ghiacciate se non ricordo male nell'edificio rosso dove c'era tutta la sua cloche di comandi e quel gattone là in alto beh, potrebbe essere l'agente muscless i muscoli ce li ha, si vede che è sicuramente un felino maschio i presupposti ci sono sta a capire adesso che cavolo c'entra un gatto che miagola e che si sta inghiottendo le palle di pelo con la season 2 io non ne ho assolutamente idea però c'entra e le grandi modifiche ragazzi come vi anticipavo non sono finite perché se andiamo in tutti i social di Epic Games a partire dalla loro pagina Twitter ma passando anche per Instagram, per Telegram per tutto quello che volete il logo è cambiato sia il logo di Fortnite che si colora di una bella tinta dorata che è proprio il banner la testata del canale dove si vede chiaramente la skin palla 8 con in mezzo questa mano dorata sta appunto a significare che una season dedicata all'oro sta per arrivare ragazzi lo rivediamo qua in una versione un pochettino più pulita e vi ricordo anche che ci sono dei vecchissimi teaser o meglio dei vecchissimi leaks che avevamo trovato credo che torniamo in season 9 perché c'erano ancora i robotoni dove si parlava si faceva intendere appunto un nuovo mondo esattamente in queste righe che vi lascio poi leggere a voi in inglese parliamo dove stava partendo il Rocket quindi c'era il Visitor forse eravamo in season 10 ora non mi ricordo il Visitatore torna anche in questo secondo capitolo della seconda season perché in queste parole c'è proprio scritto che il mondo si deve ristabilizzare un nuovo ordine bisogna che sia creato i sette sono stati chiamati e la parola e le frasi dedicate al nuovo mondo potrebbero essere appunto associate alla rivoluzione che ci sarà con l'evento oro ragazzi evento oro che è anche il nome della skin che a questo punto è quasi chiaro o arriverà in questi ultimi giorni o sarà la skin finale del pass battaglia della season 2 o quella iniziale boh non si sa vi faccio vedere ragazzi dove siamo arrivati perché è in game forse non ve lo ricordate o forse non avete visto il video che ho fatto ieri ma in game ragazzi è già iniziato in realtà l'evento guardate qua come vedete siamo nella casa centrale dell'isola e anche se ve l'avevo già fatta vedere da una settimana abbondante ufficialmente adesso in game potete anche voi trovare alcuni oggetti che si sono colorati d'oro il divano la televisione il water ed è solamente la prima fase potrebbe essere una fase che cambia per ogni giorno della per ogni giorno mancante alla season 2 interessante anche questo blocco di appunti che ha il logo che abbiamo già visto in questo pass battaglia e che sarà anche presente nell'outfit della skin oro quindi ragazzi davvero tanta tanta roba perché questo evento sta veramente prendendo piede e anche questa immagine che è già da un bel po' che gira potrebbe essere associata appunto alla season dal capitolo 2 della season 2 praticamente il nostro ombrellino qualora vincessimo una partita e sarebbe giustissimo che fosse d'oro appunto rimanendo in tema insomma ragazzi le cose stanno venendo fuori io vi ricordo che il 20 vi aspetto tutti il live il 20 perché c'è la season 2 ma io sono in live anche adesso e tutti i giorni dalle 8 alle 18 sulla piattaforma viola noi ci vediamo in live ciao